ciao a tutti ragazzi sono mattia di gamer official e oggi siamo qua ritornati su minecraft e beh oggi ho fatto una nuova costruzione che ci accompagnerà per tanto tempo ecco la mia cosetta l'ho fatta così non è molto bello lo so però non sono tanto facile l'ho fatto così qua c'è il mio pappagallino che non posso e ho preso il pistone dall'ala e l'ho messo qua come tavolino sì che c'è lo sta cosa però è una tovaglia si è verde sono andato un palminiera per un po di carbone un po di ferro che devo cucinare però vabbè e siamo qua oggi non so cosa faremo in realtà però ciao lama lì ho visto un villaggio quindi ci andiamo l'avevo visto prima però ci vediamo quando arrivo eccoci arrivati eccoci qui buongiorno più bello il letto arancione ma non lo prendo però pure le torce si e se questa mi servono e un po di carbone però mi servono questo meglio prendere meglio prendere ok un laghecchino un laghecchino carbone prendiamola e questo serve il carbone serve ok ok ce l'abbiamo ma questo lo prendiamo non ci serve il carbone che questo lo prendiamolo che ok 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 quanto ce l'abbiamo molto bello quanto ce l'abbiamo molto bello quanta ce l'abbiamo ancora quanto quanto ce l'abbiamo ancora quanto ce l'abbiamo è impossibile scusate che il mio cane che abbaia però 46 in una vena sola a mappa tantissimo ok poi ci faremo è una buona idea facciamo una farm oggi in questo episodio buongiorno buongiorno ero un golem e purtroppo ti devo sacrificare perché mi serve il ferro e lo so però la vita va così vieni 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 ma non provarci eh vieni qua vieni ah se non vieni ovviamente guarda che arrivo io eh arrivo io ok ok meglio andare dentro e dormire che ci sono mostri ok qua un pane e un barello ciao iron golem mi dispi no eh lo so che così non è molto è però ok l'abbiamo preso nessun golem è stato maltrattato in questo video forse non è nata quindi ok prendiamo il carbone si sta rompendo il mio piccone mi sa che ne devo fare un altro ok prendiamo il fieno che questo serve il pane ok grano grano questo se lo prendiamo grazie io ok allora abbiamo finito qua scusate ma la devo prendere ah ora mi sento molto meglio ora un lama marrone che bello un gatto piccolo ok ora andiamo a casa andiamo a casa e facciamo la farm ci vediamo dopo i shell e devo cuoci qui a casa ok bene siamo a casa posiamo tutto e cuociamo il ferro che almeno ferro 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 eccolo qua facciamo questo ci facciamo il pane 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 allora io c'ho due di questi se servono due di questi legno ce l'ho facciamo la zappa in foro ok eccola qui e andiamo giù per di qua perché o se non faccio la farm infinita che di acqua è molto meglio 1 2 3 ok secchio ok ci vediamo quando ho fatto l'acqua infinita a dopo eccoci qua ho fatto l'acqua infinita e dobbiamo solo zappare ok la facciamo qua alla farm vicino l'acqua infinita ok tutto bello qua un campo qui bello grande tipo qua mettiamo l'acqua e dovrebbe essere risicato tutto mettiamo ancora un po' più in qua così no qua no no qui no qua no ok e ci siamo la direi di mettere solo qua l'acqua che vedo che non sta facendo tutto ok ci siamo ho fatto tutta la farm perché questo ok qua c'è la farm e devo prendere solo i semini sem�� semidi semini 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 ok prendiamo questo mettiamo una torcia qua perché è una qui ehn sposiamo tutto e prendiamo solo i semini Seminit, semisemini, semisemini Va bene Adesso vado a casa perché si sta facendo buio E arrivano i mostri E non ci piacciono i mostri Soprattutto i creeper E quelli sono fastidiosi Molto, tanto fastidiosi Tantino, molto Lo c'è Ok Va bene Eccoci qui Ok, mettiamo tutti i semini Che ho trovato Poi Se riesco Troverete tutta la fan completa Ehm Ehm No, no, no Ok Ehm Va bene Ehm 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 Va bene Ehm Va bene Ok Ok Per questo video è tutto Ehm Ciao Ovviamente Ovviamente Prima di salutarvi Lasciate like Iscrivetevi al canale Ehm Buon anno a tutti Perché oggi è il 2 Quindi Buon anno a tutti Passate un buon 2023 E da Mattia Degli Emel è tutto A un nuovo episodio Ehm